Il Natale è tutto da scoprire e quale miglior modo per farlo se non quello di rendere i bambini protagonisti. I plessi delle scuole dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo di Amicis di San Ferdinando di Puglia hanno promosso il presepe vivente itinerante nel contesto delle tante attività intraprese per celebrare delle festività che segnano un pur parziale ritorno alla normalità dopo le restrizioni dello scorso anno. È un Natale abbastanza ricco, abbiamo tante attività un po' dislocate in tutti i plessi dell'Istituto di Amicis. È un Natale ricco, un Natale diverso, considerata anche la situazione dell'anno scorso che eravamo chiaramente in lockdown, in chiusura, in restrizione e per la prima volta siamo davvero insieme, stiamo insieme come comunità, quindi sono presenti i genitori. La tappa del presepe presso la Col di Retti di San Ferdinando rappresenta al meglio la volontà degli Amicis di aprirsi al territorio. Abbiamo sottoscritto un patto educativo di comunità che apre la scuola al territorio ed è proprio in vista di questo patto educativo che noi abbiamo potuto realizzare il presepe vivente questa sera alla cooperativa Col di Retti. Questa di stasera è una magia, il presepe vivente con i bambini e anche con la loro presenza che interpretano il presepe vivente. Grazie di cuore maestre, grazie di cuore ai genitori, grazie alla cooperativa, grazie alla comunità di San Ferdinando, grazie all'amministrazione comunale, grazie a tutti davvero e buon Natale. Grazie